Un grande investimento per i prossimi due anni per concretizzare la nostra priorità, quello del lavoro, del lavoro per i giovani. Alcune misure innovative, quelle che vogliamo chiamare torna in Abruzzo, un incentivo alle imprese che assumono i ragazzi e le ragazze che stanno facendo un'esperienza di lavoro formativa all'estero e che vogliono tornare in Italia. Un'altra misura, mi formo e torno, i ragazzi e le ragazze che vogliono fare un'esperienza lavorativa in altre regioni o di formazione in altre regioni all'estero e che vogliono tornare in Abruzzo, noi prevediamo un contributo per i giovani e per le imprese che poi le assumeranno e poi la trasformazione dei rapporti di lavoro determinato a tempo indeterminato, incentivando quindi occupazione stabile sia per i giovani, per le nuove assunzioni, anche sia per coloro che hanno più di 35 anni e che hanno perso lavoro. Verrà il Presidente della Regione Toscana, verrà anche il Presidente Zingaretti domani, sono segni di solidarietà, di sostegno, di interesse che a me onorano e che accolgo con piacere. In quanto Presidenti delle regioni, io ho voluto impostare la mia campagna elettorale nel segno dell'autonomia della nostra regione, della possibilità che io assuma impegni direttamente, della possibilità che poi possa mantenerli, del protagonismo delle liste civiche, di quelle più politiche che abbiamo promosso e di ogni candidato, gli altri invece, come sappiamo, stanno conducendo una campagna elettorale in ombra, all'ombra di ministri che vengono a fare propaganda, passerelle di ministri che non assumono nessun impegno per la nostra regione e anzi i miei competitori, i candidati delle altre liste, si manifestano sempre più come accompagnatori dei ministri, non come soggetti che si propongono all'elettorato, ai cittadini abruzzesi e assumono impegni direttamente per gli abruzzesi.